Ragazzi buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi vi spiego come mi sto allenando in questo periodo, nell'autunno 2024. Allora intanto mi chiede coach cosa stai facendo in questo periodo, come stai organizzando i tuoi allenamenti. Bene, allora vado dritto e vi racconto un po' quello che sto facendo. Allora in questo periodo è un periodo dell'anno che in genere tendo ad allenarmi abbastanza. Tendo ad allenarmi abbastanza perché sto registrando diversi contenuti e quindi quando registro sapete bene che i miei allenamenti sono i contenuti che registro. Quindi cosa sto facendo? Sto registrando il percorso di allenamento nuovo che uscirà a gennaio 2024. Quindi sto testando un allenamento ad alta densità e lo faccio la mattina. Quindi la mattina allenamento ad alta densità circa 35-40 minuti di workout e questo per 5 volte alla settimana perché questo allenamento sarà 3 volte obbligatorio più 2 volte facoltative. Quindi mi sto registrando tutti i contenuti. Quindi allenamento ad alta densità. Chi mi chiede ma non usi carichi pesanti per allenarti? No, non uso carichi pesanti. Cerco di prediligere i lavori ad alta densità, quindi grande volume nel poco tempo di lavoro che vado a fare e questo mi permette di avere un fisico atletico secco, come dico sempre, quindi a bassa percentuale di grasso, dei volumi atletici perché io sono circa 1,72 per una settantina di chili, chilo più, chilo meno, ma più o meno è quello. Ed è così da ormai non so quanti anni, quindi sono sempre stabile. Però mi spingo bene in questo periodo, quindi mi sento anche bello atletico perché comunque questi lavori ad alta densità, oltre a lavorare muscolarmente, mi danno anche un ottimo, diciamo, miglioramento da un punto di vista cardiocircolatore. Quindi questo è utilissimo. E poi vado a fare un doppio allenamento perché sto registrando anche la challenge push and pull e quindi visto che tantissimi amate fare piegamenti sulle braccia, amate fare lavori di tirata come possono essere le trazioni, sto registrando questa nuova challenge. La challenge push and pull ovviamente verterà, come dice il nome stesso, in un workout questo di 20-25 minuti in cui spingiamo forte, qua il livello richiesto è un livello secondo me intermedio, in cui andiamo a mettere in campo trazioni e piegamenti sulle braccia o di pale parallele. Generalmente ho gestito il lavoro con questi esercizi qua e vi assicuro che comunque è bello intenso perché comunque in 20 minuti di trazzioni si gestiscono anche 100, oltre 100, comunque un centinaio di trazzioni, piegamenti sulle braccia siamo intorno ai 200, quindi capite che c'è un livello intermedio. Non dico avanzato perché gli avanzati sono quelli che effettivamente fanno endurance ma lavorano con altre tecniche di movimento, quindi noi cerchiamo di portare più questa challenge push and pull per avere miglioramenti muscolari da un punto di vista proprio sui muscoli target che lavorano e quindi questo è un po' quello che sto facendo, sto facendo il doppio allenamento. Anche in questo caso challenge push and pull vado a fare 5 workout settimanali che li metto poi nel pomeriggio, quindi questo è un po' quello che vado a fare. E cosa noto? Noto che comunque con l'accoppiata il mio fisico risponde molto bene, nonostante i 45 anni, ma sono numeri perché comunque riesco a recuperare bene, non ho acciacchi se non i classici DOMS ma ci stanno perché i lavori sono impegnativi, però comunque riesco a cadenzare bene l'allenamento, supporto bene l'alimentazione, mangio in maniera equilibrata, quindi buona parte carboidrati, poi la dose di proteine e i grassi principalmente buoni ma anche ogni tanto quelli un po' più svaccosi li mangiamo. E quindi questo è l'allenamento che sto portando avanti, quindi chi di voi poi vorrà provare qualcosa vi dirò comunque come fare visto che mi seguite in tanti, vi dico che sia l'allenamento inizio anno, siete migliaia che l'avete messo in pratica fisico da spiaggia quest'anno, quindi questa è la giusta continuazione di fisico da spiaggia o degli altri che avevo fatto gli anni precedenti. E poi chi vorrà metterci la challenge, la challenge la farò uscire poi adesso verso novembre, quindi la trovate comunque sul mio sito più avanti e può essere la challenge pre natalizia secondo me, durerà anche questa challenge circa 5 settimane, quindi 5 settimane in cui avrete ogni giorno un allenamento mirato dedicato al push and pull. Quindi ci sarà da divertirsi, quindi questo un po' quello che sto facendo in questo periodo. Mi piace, il periodo autunnal, il periodo invernale secondo me sono perfetti per allenarsi, darci dentro, seminare i risultati che poi raccoglieremo. O comunque raccoglierete subito, o comunque chi è agli inizi sta partendo con un inizio di miglioramento fisico, nei prossimi mesi vedrete i risultati. Invece costante tutto l'anno è un modo per continuare a essere sempre performanti e al top. Bene, questo è un po' tutto, ci si vede in un prossimo video, mi raccomando spolliciata per il coach, continuate a seguirmi e alla prossima, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito www.umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito! Grazie a tutti!